Allora questa qua è la piramide di Saqqara di Zosar, risale al 2850 avanti Cristo e si vedono i camelli e tutto è sempre questa qua fatta di calcare, come vediamo così. La piramide di famosa in assoluto e si vedono i camelli, la piramide di Zosar, il faraone, l'architetto famoso era Immotem perché aveva fatto la piramide. Questa qua è la piramide a Gradu, grazie.